Mario Tonina, consigliere provinciale dell'Unione per il Trantino e ospite di A2x2, Mario Tonina particolarmente impegnato nell'azione di salvaguardia dei territori periferici che in Trantino significano territori di montagna, l'occasione e gli spunti per le riflessioni arrivano dal recente libro La montagna perduta di Mauro Marcantonio e del professor Cereo, un libro presentato a Roma alla presenza del Presidente del Senato. Che riflessioni fa e cosa si può fare per una montagna che sotto gli occhi di tutti, se non ci sono servizi, se non ci sono opportunità di sviluppo in periferia è destinata a spopolarsi? Grazie per questa opportunità. La presentazione di questo libro a Roma recentemente credo che ci ha permesso, soprattutto a chi era presente, in modo particolare a chi fa politica di fare anche una riflessione. L'ha detto bene anche il Presidente del Senato, Grasso, che lo spopolamento della montagna penalizza il resto del Paese e su questo credo che siamo tutti d'accordo. Diciamo quello che è stato fatto, quantomeno in Trantino e in particolare anche in Alto Adige, una regione molto attenta e sensibile alle problematiche legate alla montagna. In passato la politica è stata attenta, ha garantito anche la presenza dell'uomo, ma di chi vive, di chi svolge anche il proprio lavoro all'interno di questo territorio. E oggi questo lo rileviamo in termini positivi. Con la presentazione di quel libro invece abbiamo potuto capire che nel resto dell'arco alpino, a livello proprio delle regioni, del Piemonte, della Lombardia, del Friuli, oggi c'è uno spopolamento che preoccupa e penalizza sicuramente il resto del Paese. Quindi queste devono essere invece riflessioni anche per cercare di capire come oggi il Trentino può continuare in questa direzione, garantendo attraverso anche una sensibilità politica, attraverso anche degli aiuti, far sì che ci sia un impegno importante, ma soprattutto una presenza proficua. Ecco, citando e dando dietro con il naso della storia negli anni 30, negli Stati Uniti d'America, quelle praterie che erano coltivate, o meglio, erano lasciate a Prato, vennero coltivate dai contadini e naturalmente togliere l'erba, il vento portò via tonnellate, tonnellate di suolo e si creò anche una crisi nell'agricoltura. Questo sta a significare come l'azione dell'uomo abbia una grande incidenza sul territorio, abbia una grande incidenza su come far vivere la montagna. Che azioni fare? Credo che, ripeto l'esempio, in passato ci sia stato. Dobbiamo crederci tutti, perché chi partecipa a questo percorso in montagna deve avere questa consapevolezza. Sicuramente gli agricoltori, in modo particolare gli zootecnici che svolgono questo lavoro in alta montagna, hanno un impegno e una responsabilità maggiore, ma credo che anche tutte le altre figure, tutte le altre persone a vario livello, le varie categorie degli albergatori, degli operatori economici, ma soprattutto le persone comuni, debbano avere anche questa attenzione e nel saper riconoscere quello che è un valore importante, un impegno di una categoria che quotidianamente lavora non solo per se stessa, ma per garantire una montagna vivibile sotto tutti i punti di vista. Torino, lei è un esperto, è un esperto di agricoltura, di zootecnia, di montagna e sappiamo tutti che bisogna puntare sulla qualità, perché non si può competere sulla quantità e sui prezzi, ma la crisi del latte è sotto gli occhi di tutti. Che fare? Questo è altrettanto vero e credo che se in Trentino, finora, siamo riusciti a garantire anche un prezzo del latte remunerativo a chi produce, a chi alleva gli animali, è dovuto principalmente ad una sensibilità della politica, ma anche ad una cooperazione forte, ad una cooperazione che ha sempre garantito attraverso anche questi percorsi di riuscire a valorizzare al meglio e remunerare questi allevatori. In questo momento ci sono delle difficoltà oggettive, proprio di ieri una riunione promossa dall'assessore all'agricoltura per cercare di risolvere un problema che anche in Trentino, in parte, in questo momento sta avendo delle ripercussioni negative, soprattutto da una parte di allevatori che conferiscono ad un privato e dove la remunerazione è insufficiente. Allora, quello che io dico in questo momento è bene, ha fatto l'assessore anche a riunire attorno ad un tavolo tutti gli attori dalla cooperazione, ma anche dalle altre forze che possono dare un contributo. Io credo che ne usciremo, se tutti assieme riusciremo a fare il quadrato, ad essere uniti per un obiettivo comune che riguarda quello della salvaguardia di questi territori, ma di questi allevatori, per garantire loro un reddito dignitoso. Sentiamo cosa chiedono i cittadini alla politica. Se l'Europa dà un'indicazione bisogna seguirla, se no si va fuori dall'Europa e si fa quello che si vuole. L'impressione appunto non è quella, forse, che si vuole un po' chiudere con questa Europa? No, qualcuno vuole rimanere in Europa e vuole i vantaggi e non vuole i svantaggi dell'Europa, probabilmente. Secondo te la politica locale può fare qualcosa in questo senso, provincia, regione? Difficile. La provincia da sola non può altro che riferirsi allo Stato nazionale. Infatti i due presidenti mi sa che sono andati da Renzi per fare il problema a livello europeo. Le provincie possono fare poco, penso. Si risolverà? Penso di sì, speriamo. Speriamo di sì. Speriamo nel buon senso dell'Europa. Allora, Europa. Europa, tutti hanno un senso europeo che deriva, se non altro, dalla storia. Però sembra che l'Europa abbia due livelli. Il senso europeo dei cittadini che viene minato, sgretolato giorno per giorno, dall'opportunismo burocratico che i cittadini intravedono in alcuni Stati. Sembra quasi che il Parlamento europeo sia solamente di rappresentanza, visto che le decisioni poi non si sa mai chi le prende o si sa chi le prende. Ma il Parlamento europeo, vediamo che i nostri europarlamentari, disconoscono spesso queste decisioni. Chi comanda in Europa e cosa può fare veramente una regione, un euregio e una provincia? Torina. È vero, dei problemi a livello europeo ci sono, li abbiamo vissuti anche in questi giorni. E dove manca, a mio modo di vedere, anche una regia politica che deve esserci a livello europeo su quelli che sono i grandi temi, i grandi temi come quello dell'immigrazione che stiamo vivendo e dove non possiamo lasciarlo alle singole nazioni, ma la regia deve partire dall'Europa. Diversamente questo sarà un problema che nei prossimi anni ne pagheremo cari le conseguenze. Devo anche dire che l'Europa negli ultimi anni, soprattutto per quanto è ricollegandomi anche a quello che stavamo dicendo prima, in modo particolare per l'agricoltura, ha avuto anche un cambiamento, ma soprattutto sta garantendo una sensibilità diversa nei confronti della montagna. Nel nuovo PSR finalmente è inserito anche il tema che riguarda nello specifico i problemi legati alla montagna, viene data la possibilità di garantire, di fare anche dei marchi che sono facoltativi per valorizzare i prodotti e il motivo per il quale io ho cercato di agganciarmi anche a questo, con il contributo in modo particolare anche dell'onorevole Dorfman che si sta impegnando molto su questi temi cari anche a lui, per presentare in occasione del bilancio approvato a dicembre un ordine del giorno che riguarda il marchio Qualità Trentino, un marchio territoriale. Credo che questo possa anche in prospettiva futura garantire una continuità, garantire soddisfazione al mondo dell'agricoltura, perché se l'agricoltura avrà queste soddisfazioni garantiranno anche un ulteriore sviluppo del settore del turismo. Senza agricoltura il turismo non avrà futuro in Trentino, quindi questa sinergia alla quale anche l'assessore competente sta lavorando, credo che debba essere intensificata e soprattutto a livello di consiglio provinciale ci deve essere una consapevolezza ma dovremmo riuscire a trasferire anche una cultura e un insegnamento ma soprattutto anche alle giovani generazioni che è importante garantire questi percorsi per permettere alla montagna di essere vissuta e non abbandonata. Grazie, grazie a Mario Tonina, consigliere provinciale dell'Unione per il Trentino grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie soprattutto ai nostri ascoltatori. Grazie a tutti.